6 amo cazzo ma è fanatico? no 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 che fanatico oh boh non ci siamo non ci siamo così miravini delle statistiche ahahah se aveva un sapore strano ahahah ahahah e morì mamma mia assistenza 50 e fallo chi è che camp era qui eh? chi è che camp era qui? dark te lo io no dove è? dove è? dove è? dove è? come dai eh? chi c'è? che ho fatto adesso? che fanno? non hai fatto niente è questo il problema non ti è neanche entrata la hit eh vabbè mica beh dai cazzo spara anch'io mille colpi a vuoto aia attenta 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 in mezzo nooo ti è costellato vabbè anche il lato è un mappassardo ti è costellato aia no 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 il tempo è grande in van grande in van grande in van grande cazzo grande paci ma veniamo con una squadra con me magari usufruisco di qualche perk sai ma perché non venite squadra con noi siamo in tre? quando siete in tre? a mo siete in tre aiuto 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 dai dai passo io con te Ivan no 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 ben voli ben voli nooo ma infatti siamo con tre giusto vieni tu ti ho visto ai gol niente sensori di movimento brutti stronzi mi da fare sponchino viene uno chi è questo quinto guarda ti spacco d'arte guarda ti spacco d'arte no assistenza 92 porcodio come porcodio eri all'8% io poi ma me ne fai un cazzo dell'8% sono le cose che vedo eeeh ho preso uno sconosciuto che ha capito come si gioca sono le cose che vedo che mi fanno incazzare le cose che piace di più ah che spacco no no manca chi è? chi è questo? chi è che salta con il grillo guarda questa carta chi è bello? è un pozzetto ecco a casa ora ah ma però sto batterbitt ma no che male che male ma vieni mo tipo zombie ma no si grande salvuccio che mi hai salvato il cuore no no è lì che ride sotto il barco no ha mirato malissimo aia 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 Cosa? PEM! Cosa? Non ci vedo! 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 Non hai fatto una grefa! Non mi hai preso! Mi hai preso una volta! Mi hai preso una volta! Mi hai preso una volta quando sto... Non mi hai vero che niente! Quanti cazzo siate, porco Dio! Sta! Quanti siate, cazzo! Ti vedo! Aià! Aià! Guarda che novità! Alla giù c'è un cecchino! Perché sono tutti cecchisi! Dai! Ci vuoi più lo 0-200! Inchia chi gassi! Come se piovessero! Ho beccato uno stinco e non è morto! Dov'è! 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 Cosa vuoi! Mi hai colpito il... Alderetà! Mmm! 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 No! T'ho preso in pieno pezzo! Sì, vabbè! Adesso è ufficialmente mongoloide! Ma... Dio sei mongoloide! Che è successo? Che è successo? Ho perso! Ho portellato di fila! Di okani! Io non scrivo solo fucine! Ma sono stupido allora! Ragazzi! Vi saluto! E sta bene a me! Bella scine! Bella scine! Fate i bravi! No! Ma aiutatemi! Cosa cazzo? Ma siete degli stronti! Ma siamo tutti su Alfa 26! E' lo suddetta! Ma te ne ha fatto culo! Cazzo sono dio! Dei non uccisioni che ha subito salto su quattro sono mie! Si vede che sparo male! Perché tanto lui lagga! Sparo dove non è invece lo prende! E' il mare di bristo! L'aggiano! Mi colpisce! Cazzo terremoto! Eh! Questo ha pesato la pistola! Ha pesato la pistola! Ma se acce! Se io ho 100% di vita! Come fanno? Colpo che non mi ha detto! 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 E avevo 100% di vita! La barcha ha il fucile terribile! No! Il lagga della madonna! Fa schifo! C'è una calma che non mi piace! Aiuto! E' una calma apparente! Che vero io Bob! Ahia c'è uno sopra! Ecco io! E si ferisce! Si prende la fissata alle spalle! Ed è entrata cazzo! E' ferito e non entrata! E' morto! Oddio sei casuto giù! Ed è tipo a metà vita quasi! Che non sei morto! Uuuu! Vola! Vola! Dai! Vola! Dai Nero che ti ho preso il mio petto! Vale! No! Ma com'è che non sei morto? Non è possibile! Non è possibile! Tark! Slug! 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 Eh! Vai a far culo del coltello! Ragazzi ma ci avete pensato? Appena finisco i proiettili! Guarda che zanati! Ma se cazzo è morto quello scusa! Mamma che me l'ho sparato male! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Cazzo! No! Cazzo! 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 Si è preso nel dentro! Ti ho preso nel mente! Su è entrato io! Guarda a te! Guarda chi! WHA PBN! No! L'ho mancato! NOO! Cazzo! Guarda a chi ma l' missione della porta! Tutte le butti donumi! BETHub! BASTA! Ah ah, sei nabbo. Ah ah, sei nabbo. Ah ah, sei babbo. Davide che l'andiamo a vincere, dai cazzo! Eh? Entrate i medici! Nooo! Tanto non se ne accorgono! Nooo! Nooo! Mi diventano dietro! Ma dove o? Che cazzo non è sembrava che fosse dietro, invece l'ho giocato! Non c'ho ottica, io non c'ho ottica, non mi tiro mai! Ma io non c'ho neanche, io non lo gioco mai! Ho preso uguale! Ho preso in testa! Ho preso solamente un paio di inizio! Ho preso anche l'altro, ho tutti due con un ragazzino! Questa si fa andare una stanza, avete paura eh! Tanto perdi! Tanto perdi! E tu mamma sono morti questi due, come è possibile? Sta arrivando uno sul delta, ragazzi! No, con due! Sono tre, sono tre, sono tre! Chi è? Pazzo che è rimasto qua! Chi è? Pazzo che è rimasto qua! Io, io, io sono rimasto, io sono morto! Cazzo! Ammazzo, pazzo! Ammazzo! Mi ci sono buttato a tutti! Come cazzo hai fatto che ero dietro salvo? Mi hanno giustiziato! Hanno fatto bene! Ho capito, qua devo aprire e miule! No, t'ammazzo! Easy, bro! Che sacco! Mi ha violato un'anza! La vinciamo noi! La vinciamo noi! La vinciamo noi! Ma prima devo scaricarlo! Portiamolo a casa! You noob! You noob! You noob! Cazzo, sono il cecchino più togo di tutti! Usi il silenziatore come i froci! Iiii! Taaah, cecchieto io c'è bigottica! You noob! No, io non è uscito! Specialista L96! Minchia bella che mi sto facendo! La segnazione! Dai che si fila ai fucili! Vabbè usciamo dai! Come usciamo, no? You noob! You noob! Ah, ok! Allora si!